Ben trovati ai telespettatori di Reteotto a Il Fatto. Oggi ci occupiamo di un tema importante, un settore fondamentale per l'Italia e per l'Abruzzo, l'agricoltura. Faremo un po' il punto della situazione anche alla luce delle vicende internazionali. Qui con me, come ospite, abbiamo Nicola Sicchetti, presidente C.Abruzzo, agricoltori italiani, che ringrazio. Ben trovato, presidente. Allora, iniziamo dunque con il parlare della situazione attuale dell'agricoltura. Prima a livello nazionale, quali sono le problematiche, presidente, da affrontare e quali sono le vostre proposte, perché ne avete fatte, proposte precise e molto pregnanti, insomma. Sì, il settore agricolo appena dopo la fase della pandemia è stata soggetta ad aumenti di costo di produzione che sono sproporzionati. Parliamo in certi casi, nell'acquisto di materie prime, aumenti del 200-300%, che hanno fatto sì che il costo di produzione non è stato assolutamente recuperato dal valore del prodotto che noi andiamo a produrre, le derrate alimentari. Quindi una perdita di valore, una perdita nei bilanci delle aziende, che ha creato difficoltà importanti proprio riguardo la sostenibilità delle aziende. Noi, proprio per questo motivo, nell'ultima giunta nazionale, abbiamo definito dei punti chiave, cardine, che sottoporremmo entro la metà del mese al ministro, l'Olo Brigida in questo caso, il ministro dell'agricoltura, per far sì che il settore abbia subito un cambio di passo, sia come settore in se stesso, sia come possibilità di ripartire. Partendo dal discorso della filiera alimentare, in questi giorni se ne è parlato tanto, il prezzo che viene pagato a chi produce la materia prima, di qualsiasi genere di solito è molto basso e poi troviamo negli scaffali, oppure nel momento in cui si conferisce nelle industrie alimentari, aumenti che sono anche di 10 volte il prezzo pagato nelle campagne. Quindi una legge quadro inserita nella legge che già esiste, quella delle pratiche sleali, quindi una modifica della legge che riguarda le pratiche sleali, dove si definisce che un contratto base che viene fatto nell'eccezione di prodotto deve almeno coprire i costi di produzione, più un minimo di utile per le aziende. Quindi è già un fattore molto importante perché l'imprenditore già riesce a avere una minima remunerazione che gli permette di andare avanti. Poi l'altro punto importante è quello delle zone interne. Noi in particolare in Abruzzo abbiamo tantissime zone interne che stanno perdendo sia abitanti, è qualcosa che va avanti da tanti anni, ma a livello nazionale il problema è diffuso in tutte le regioni. Riguardo a questo noi stiamo preparando una proposta di legge che riguarda le zone interne e l'agricoltura familiare. Cioè dare riconoscimento, qualcosa già si è fatto in questi giorni con altre modifiche di legge che praticamente diano il riconoscimento anche di governo del territorio. Cioè chi vive nelle zone interne, il reddito di solito è molto basso perché la produttività per ettaro è bassa dovuto alla questione proprio diciamo ambientale, però deve avere anche un riconoscimento riguardo a quella che è la funzione di mantenere il territorio, il presidio umano importante. Quindi il dissesto idrogeologico si ferma proprio con la presenza dell'uomo e con la coltivazione dei terreni anche nelle zone più impervie del nostro paese. Poi il consumo di suolo, se ne parla da tanto tempo, noi vogliamo che bisogna consumare il meno suolo possibile, lasciare il più possibile i terreni a disposizione del mondo agricolo per le produzioni, quindi il recupero delle zone già industrializzate e dismesse e diciamo tante altre situazioni anche urbane che benissimo possono essere recuperate e non andiamo a consumare altro suolo, non solo agricolo ma anche diciamo riguarda anche l'ambiente. Se abbiamo zone dismesse industriali diventano degli scempi, se invece abbiamo terreni coltivati, coltivati bene, sono anche dal punto di vista paesaggistico un valore che poi può essere venduto a livello di attrazione turistica. Questi sono i tre punti fondamentali, poi però come tutte le organizzazioni agricole ci occupiamo a 360 gradi di quella che è la realtà agricola italiana. E poi parleremo adesso, tra breve parleremo insomma della realtà regionale dell'agricoltura che è un settore chiave per l'Italia e per l'Abruzzo. Voi avete proposto come detto il Piano Nazionale per l'Agricoltura e Alimentazione elaborato dalla Cia Agricoltori Italiani che è stato ispirato proprio dalla necessità di concentrarsi sul reddito delle imprese agricole come ha riferito Pocanzi. Sì, noi lo abbiamo presentato proprio perché viviamo una fase emergenziale a livello agricolo basta considerare che da qualche mese a questa parte in tutta l'Europa, non solo in Italia ci sono anche tanti movimenti spontanei che mostrano il disagio di questo settore. Noi come Cia il 23 di ottobre già siamo stati in mobilitazione a Roma quindi avevamo capito l'aria che tirava nelle campagne con delle proposte ben chiare. In quell'occasione la politica nemmeno lo ha preso di petto la cosa, ha lasciato correre pensando che fosse un segnale solo di un'organizzazione. Invece poi abbiamo constatato che il settore è veramente in ginocchio quindi bisogna dare delle risposte importanti. A livello regionale, anche qui abbiamo preparato un documento, adesso siamo in campagna elettorale. Quindi ce la par condicio presente, come le sa, quindi ci rivolgiamo a tutte le parti politiche. Infatti diciamo siamo un sindacato di agricoltori, non facciamo politica sindacale, non politica diretta. E quindi abbiamo preparato un documento, lo abbiamo mandato alle segreterie di due candidati presidenti dove focalizziamo proprio quelle che sono le necessità impellenti del nostro settore. Partendo dal discorso dell'acqua, dell'acqua per l'irrigazione, abbiamo i consorsi. Adesso i consorsi sono stati ripresi in mano dagli agricoltori, ci sono state le elezioni. Però lì abbiamo bisogno di infrastrutture per far sì che l'acqua piovana sia conservata il più possibile. Quindi l'aumento dei bacini, l'aumento delle strutture per permettere di irrigare i campi, visto che piove poco e piove male quando avviene. Quest'anno non piove quasi per niente, quindi siamo ancora più preoccupati. E quindi una serie di richieste proprio specifiche per quanto riguarda l'uso dell'acqua nel mondo agricolo e la potenzialità che ha riguardo a questo comparto, che l'acqua di irrigazione è strategico per produrre beni ed errate alimentari. Poi la fauna selvatica, un qualcosa che se ne parla da tanto. Noi abbiamo presentato diversi anni fa una proposta di legge, di modifica, della 192 del 93, che praticamente cambia quella che è la filosofia di questa legge. Cioè non più conservazione ma bensì controllo. Conosciamo bene quelle che sono le realtà. Nelle zone interne c'è ancora più delle zone costiere, una popolazione di fauna selvatica che addirittura ha fatto sì che molte zone sono abbandonate a se stesse. Quindi l'agricoltura non esiste più perché chi produce in queste zone non produce per vendere ma produce per sfamare la fauna selvatica. Quindi interventi diretti con piani di controllo strategici per quanto riguarda la regione, una regia unica per il controllo e altre indicazioni molto chiare per far sì che si riporti alla sostenibilità ambientale questo settore. Perché al momento c'è una situazione di non governo assoluto riguardo alla presenza della fauna selvatica. Poi l'emergenza manodopera. Conosciamo bene la carenza della manodopera nel settore agricolo. Abbiamo una manodopera che perlomeno è in gran parte non solo comunitaria ma extracomunitaria. In particolare nel Fugino dove abbiamo circa 6.000 persone assunte nel mondo agricolo. Il bacino del Fugino lo conosciamo. è un polmone verde che produce tantissime terrate alimentari. Anche lì cercare di far sì che si mettono in atto azioni per avvicinare non solo gli extracomunitari ma anche i giovani italiani a questo settore perché ha futuro e ha prospettive. Una serie di azioni che poi sono più dettagliate da descrivere in ambienti più settoriali quando si parla proprio dello specifico. Poi la sostenibilità economica, sociale e ambientale. Cioè il mondo agricolo ha bisogno di avere reddito, di avere considerazione, di avere una viabilità che sia degna di questo nome. Nel momento in cui l'imprenditore si deve recare nei campi, negli appezzamenti. Noi in Abruzzo in alcune zone abbiamo aziende che sono molto parcellizzate dovuta a una storia, eravamo quasi tutti agricoltori e pastori quindi i fondi venivano divisi da tutti i figli, da tutti i parenti del capo azienda. Quindi abbiamo bisogno di spostarci, vogliamo una viabilità che sia degna di tale nome. Cosa che purtroppo in tanti comuni non lo è e ci crea grossi problemi proprio riguardo alla logistica, alla movimentazione, al trasporto delle merci. Poi le zone interne hanno bisogno anche loro di tecnologie, la fibra, tutto quello che riguarda la possibilità di avere un modo di vita che sia decoroso e che sia alla pari di quelle che sono le zone urbane. L'ambiente, anche qui dicevo il controllo della fauna selvatica, la possibilità di regimare le acque, di avere pochi danni nel momento in cui si verificano situazioni tipo quello dell'anno scorso di aprile e maggio dove in molti territori non si riusciva ad andare nemmeno con i trattori per fare le operazioni culturali, quelle classiche, per mantenere e far sì che le culture non si ammalassero dovuto all'attacco dei funghi. Quindi una serie di richieste dettagliate nel documento, io ho cercato di fare una sintesi molto stretta, che possono dare una prospettiva alle aziende, una prospettiva sia occupazionale sia di produzione. Abbiamo tantissimi comparti produttivi che sono eccellenze, vere e proprie, sia in Italia che in Europa che nel mondo. Quindi se mettiamo a disposizione strumenti validi, facciamo sì che l'agricoltura si proietti nel futuro e sia un'opportunità anche per le nuove generazioni. Siamo in chiusura Presidente, c'è poi l'emergenza, produzione e aggregazione dei prodotti del settore olivicolo, settore vitivinicolo e le chiedo appunto della Peronospora, questa iattura che purtroppo c'è stata e si è abbattuta sul settore vitivinicolo. A che punto siamo? Sì, noi l'anno scorso, come dicevo poco fa, abbiamo avuto un anno veramente che nessuno si ricordava, cioè a memoria d'uomo nessuno lo aveva mai vissuto in una situazione del genere. Abbiamo avuto perdite di circa il 70% a livello regionale, con, diciamo, in base alle province anche una certa variabilità. La provincia di Chiede è stata quella più attaccata. Noi da maggio ci siamo attivati per ottenere risorse importanti per questo settore, altrimenti veramente rischiamo di perdere uno dei fiori all'occhiello riguardo al settore vitivinicolo, che è quello abruzzese, un settore che è internazionalizzato, che ha un mercato ormai mondiale. Siamo riusciti a ottenere misure a livello regionale, che poi non sono soddisfacenti, però rispetto alle altre regioni dove non si è riuscito a ottenere niente è stato un punto positivo. Poi il riconoscimento della 102-2004, che andrà sulla gazzetta ufficiale il 5 di marzo, e da lì poi potremmo, tramite i nostri C.A., i nostri centri di assistenza agricola, fare le domande ai viticoltori per avere sia indennizi diretti, sia possibilità di dimezzare la parte contributiva, mi riferisco ai contributi agricoli unificati, sia dei capi aziende che dei dipendenti, e la moratoria dei mutui, che permette in particolare alle aziende cooperativicole di spostare di due anni quello che è il mutuo in essere, quindi un respiro che ti permette poi di rientrare in carreggiata e di non andare in default, perché se non hai lavorato, l'azienda, in particolare le cantine, quelle importanti, che hanno lavorato per un terzo, hanno dei costi di produzione importanti, hanno dei mutui in essere e non possono permettersi di pagarli, altrimenti poi bisogna scaricare il tutto verso i soci e quindi non si riesce a pagare il prodotto, poco che è stato, ma almeno dobbiamo dare qualcosa ai viticoltori. Questa è un po' la situazione del vitivinicolo, ripeto, noi abbiamo lavorato tanto, abbiamo avuto anche le nostre soddisfazioni, perché anche il riconoscimento della 102-2004 non è cosa da poco, perché ci tengo a precisare questo aspetto, di solito si attiva quando ci sono eventi calamitosi importanti con danni anche alle strutture. Noi con il nostro impegno, la nostra attenzione, siamo riusciti a far capire che le piogge non hanno creato disastri ambientali, però una pioggia che è durata quasi due mesi ha fatto sì che non siamo riusciti a entrare nelle campagne, a curare i vigneti e quindi abbiamo perso tutta o quasi la produzione e quindi abbiamo bisogno del riconoscimento, e lo abbiamo avuto. Grazie allora al Presidente Nicola Sicchetti, Presidente Cia Abruzzo, agricoltori italiani, parleremo, torneremo a parlare di agricoltura con lei, questo settore chiave, non solo per l'Italia ma anche per la nostra regione, il fatto termina qui, grazie a regia a Danilo Cinquino, uno buon proseguimento a tutti voi, arrivederci.